Siamo a Palagiano in provincia di Taranto. Ho al mio fianco il sindaco di Palagiano, l'avvocato Domiziano Lasigna, per tracciare un po' un bilancio, un consuntivo dell'attività amministrativa in questo 2020 e poi considerare un po' le prospettive, i progetti, i programmi per l'entrante 2021. È superfluo dirlo che questo 2020, consideriamo la dannazione del Covid, è stato davvero un annus orribilis. Eppure l'amministrazione comunale di Palagiano, come abbiamo documentato in altri approfondimenti giornalistici, ha cercato, ha fatto di tutto davvero per alleviare le sofferenze della collettività, innanzitutto attraverso interventi appunto di natura sociale, in collaborazione con le varie associazioni del territorio. E allora, sindaco, tracciamo un po' il bilancio, così per sommi capi, per grandi temi, del 2021, un anno da cui veramente vogliamo liberarci quanto prima. Innanzitutto grazie e benvenuti a Palagiano. Siamo onorati di poter avere questa opportunità di confronto, di racconto. È stato un anno difficile, un anno complicato e probabilmente lo sarà ancora, almeno per la prima fase del nuovo anno, sarà difficile gestire ancora questa emergenza, che però pare stia andando verso la soluzione anche grazie ai vaccini arrivati in Puglia, nella provincia di Taranto. Un anno che ha preteso da parte di tutta l'amministrazione, che rappresento, un impegno raddoppiato rispetto a tutte le emergenze da affrontare. Abbiamo cercato tuttavia di gestire al meglio tutto quanto, continuando a condurre l'azione amministrativa per la realizzazione di quei punti fondamentali del nostro programma. Il 2020 è stato un anno iniziato sotto i migliori auspici rispetto, ad esempio, ad una serie di interventi di natura tributaria, contributiva sul nostro territorio. Per esempio, abbiamo voluto avviare dal 2020, appunto, e continuerà negli anni a venire, quella riduzione costante, ad esempio, dell'Imu sui terreni agricoli, perché Palagiano è una cittadina a chiara vocazione agricola, famose le clementine palagianesi che spesso pubblicizziamo e che invitiamo ad assaggiare, perché sono un po' il marchio della nostra città. Abbiamo voluto dare una mano, in qualche modo, una risposta politica, amministrativa, ai tanti agricoltori del nostro territorio, che non sono imprenditori agricoli, ma che sono piccoli proprietari terrieri, ai quali abbiamo voluto rivolgere questa attenzione, riducendo di un punto l'Imu sui terreni agricoli. Abbiamo investito molto nel 2020, anche se è un'operazione che veniva da più lontano, perché già dal inizio 2018 abbiamo avviato una serie di interventi pubblici, di opere pubbliche nel nostro territorio. Noi avevamo programmato una spesa di 350 mila euro annui per opere di rigenerazione pubbliche, quindi strade, piazze. In realtà quest'anno siamo riusciti non solo a spenderne 350, ma a raddoppiare la spesa, per cui siamo riusciti ad investire oltre 700 mila euro su piazze e strade. Abbiamo prodotto interventi generali su oltre 10 strade rifatte per intero, siamo intervenuti su tre piazze già in fase di lavori, una delle quali già completata ed inaugurata. Stiamo avviando lavori importanti entro questi ultimi giorni. Abbiamo ieri, nell'ultima giunta del 2020, abbiamo prodotto quattro delibere di giunta che sono fondamentali per la storia di Paragiano. Innanzitutto l'avvio della progettazione e della programmazione dei lavori di Pug, il piano urbanistico generale, che diventa un caposaldo della nostra attività amministrativa. Il 2020 inizia questo percorso e speriamo, almeno nel prossimo anno e mezzo di attività amministrativa, di quantomeno vederne l'approvazione, per poi sperare in un futuro amministrativo e politico di vederne l'adozione. Ecco, questi sono un po' interventi importanti. Abbiamo avviato la procedura di gara per la costruzione, abbattimento e ricostruzione della scuola Giovanni XXIII, un progetto da quattro milioni e mezzo finanziato dalla Regione Puglia, dal Ministero per l'edilizia scolastica. Abbiamo avviato le procedure di gara per i lavori di Fogna Bianca, un intervento di oltre due milioni di euro che darà un ampliamento della rete fognaria locale. Insomma, è stato un 2020 impegnativo, pieno di tante belle iniziative. Abbiamo portato a conclusione in queste ore, in questi giorni, i lavori del Duc, della riqualificazione del quartiere Bachelet. Siamo stati insieme a vederlo in giorni passati. La videosorveglianza? Abbiamo completato la prima tranche di lavori sulla videosorveglianza. Abbiamo lavorato molto in questo anno per integrare la pianta organica del Comune di Palagiano. Noi siamo arrivati nel 2017 ad amministrare il Paese, che il Comune contava 32 dipendenti. Oggi il Comune di Palagiano conta 49 dipendenti. Abbiamo attivato una serie di concorsi, quindi abbiamo ampliato il corpo di polizia locale. Insomma, in questi anni sono state fatte tante cose, ma devo dire che il 2020 è stato un anno decisivo, perché come spesso... Di svolta proprio. Sì, è stato un anno di svolta e a me è dispiaciuto molto il fatto che il Covid nella sua drammaticità abbia in qualche modo attratto quasi totalmente l'attenzione di tutto il territorio, di tutta la nazione, anzi direi di tutto il mondo. Ma Palagiano avrebbe potuto raccontare quello che in questo 2020 ha fatto. Se non ci fosse stato il Covid avremmo potuto interessare i nostri telespettatori, i nostri concittadini, i nostri amici con il racconto di quello che si è fatto. Purtroppo per l'emergenza Covid abbiamo dovuto interessare la comunicazione appunto sul tema Covid e non abbiamo potuto raccontare nel dettaglio le tante cose che sono state fatte. Ora c'è l'occasione, lo stiamo facendo. Ora c'è l'occasione, devo dire che con te Luigi noi ci diamo del tuo. Certo, certo. Abbiamo potuto più volte raccontare anche con l'attenzione giornalistica che ti appartiene, con la professionalità che ti appartiene, una Palagiano che piano piano cambia passo. Noi abbiamo voluto coniare un hashtag come oggi è opportuno fare, la nuova Palagiano. Siamo partiti raccontando la cosiddetta una lunga storia d'amore, una storia d'amore per la nostra città e oggi stiamo iniziando a raccontare la nuova Palagiano che passa proprio dall'attenzione anche proprio urbanistica, strutturale, economica perché riorganizzare le casse del comune di Palagiano non è stato semplice. La situazione era molto pesante. La situazione era molto pesante. Abbiamo dovuto affrontare impegni importanti. Basti ricordare che nei primi mesi della mia amministrazione in Consiglio Comunale i consiglieri di opposizione invocavano la declaratoria di sesto per il comune di Palagiano. Sarebbe stata una iattura. Noi a Taranto sappiamo qualcosa di sesto, cioè poi uscirne e mettersi a regime è atroce. Decisamente, sarebbe stato ancora più difficile perché poi la gestione programmatica, anche di natura economica, non è più nelle mani degli amministratori, di un sindaco, di assessori o di consiglieri, ma è chiaramente, sarebbe nelle mani di un commissario ad acta che gestirebbe le risorse. Ecco, noi abbiamo voluto osare e sfidare anche un po' anche la sorte dicendo che lavorando in una certa maniera avremmo raggiunto dei risultati che abbiamo non solo raggiunto ma che continuano a stupirci perché per esempio da tre anni continuiamo a chiudere i bilanci comunali senza ulteriore disavanzo rispetto a quello che abbiamo ereditato. Questo è un piccolo dettaglio forse tecnico, forse per addetti ai lavori, ma che fotografa in maniera impeccabile l'operato della mia amministrazione. Ecco, Sindaco, lei sa, io sono un attento osservatore, sono un talvolta, dicono anche, un ipercritico nei confronti dell'operato amministrativo e governativo, ma lo dico sinceramente non per piageria, ho avuto conferma di questa mia impressione proprio quando abbiamo girato Palagiano per esempio nel quartiere Bachelet o dinanzi al drive-thru per il Covid, un rapporto diretto del sindaco, della sua persona con i cittadini, un sindaco tra la gente e per la gente. Questo è un aspetto importante perché molta gente, tanti palagianesi la vedono come punto di riferimento, come se fosse il bonus pater familias di una collettività. e non un sindaco che tende a mettersi la coccarda tricolore o a trincerarsi nella, diciamo, Turris e Burrea, in questa torre d'avorio del palazzo, ma un palazzo che è un palazzo di vetro, è un palazzo liquido nel senso che si confronta con il cittadino. È ovvio che il cittadino dice quello che pensa, il cittadino può anche muovere delle critiche. L'importante è però che le critiche, lo dico sempre in generale, siano costruttive, non distruttive, perché io dico anche che chi non fa niente non sbaglia mai. Quindi se uno non fa niente è sicuro che non sbaglia. Si può sbagliare, si può fare meglio, ma è bello, sindaco, questo rapporto, oserei dire, familiare. D'altronde Palagiano è una collettività non enorme e quindi il rapporto diretto è qualcosa di molto importante. Io direi che questa è proprio una fortuna per un sindaco. Io augurerei ad ogni sindaco di vivere, e sono convinto che così la vivono, il rapporto con la comunità nella maniera in cui sta accadendo di viverla a me. Io ho il piacere di andare in giro, ma non perché la gente osanni il sindaco, perché questo non ci appartiene, ma perché è così costante quel confronto di cui si parla che rende talvolta anche più agevole amministrare, perché molto spesso succede che andando per strada un cittadino ti fermi, magari anche contestandoti delle scelte o criticando una cosa non fatta ancora da fare. È uno stimolo. È uno stimolo, è un termometro, è un confronto costante. Quando noi in campagna elettorale parlavamo di partecipazione, probabilmente non comprendevamo sino in fondo il senso di quella parola e di quell'invito. La partecipazione è intesa proprio come porte sempre aperte, la possibilità per ognuno di dire la propria, anche perché oggi i social rendono anche molto più dinamico questo rapporto, talvolta lo avvelenano un po' il rapporto, ma è fondamentale poter dire noi siamo qui, io sono qui, per cui chiunque voglia può venire qui come fa normalmente o mi incontra per strada e lì confrontiamo il tema amministrazione. Ecco, io sono felice di questo, perché la gente di Palagiano la sento un po' come miei familiari. È vissuto, è nato, è cresciuto, quindi? Io ho deciso di tornare a Palagiano un po' di anni fa, vivevo durante gli anni universitari a Roma e quando sono tornato a Palagiano qualcuno mi diceva, ma sei proprio sicuro di voler fare questo passo? È stata una delle cose, delle scelte più importanti e forse migliori della mia vita, quella di tornare nel mio Paese dove poi ho potuto fare tante cose, compreso l'onore di diventarne primo cittadino. Ecco, Sindaco, lasciando alle spalle questo anno terribile, anzi prima di passare poi ai progetti per il 2021, volevo soffermarmi sul sostegno che avete saputo dare alla collettività in piena emergenza Covid, un'emergenza che purtroppo non è passata ma è terribilmente attuale. Beh, il Covid è stata una prova, un banco di prova incredibile per ogni amministratore, per me in particolare. Una prova del fuoco, potremmo dire. È stata una prova del fuoco e ne siamo ancora tuttora dentro, nel senso che dobbiamo ancora bene capire come... Seppure c'è questa luce non tanto lontana dei vaccini, quest'alba di speranza. Assolutamente sì e noi siamo aggrappati a questa speranza come davvero fosse la unica strada maestra per poterne uscire. Però devo dire, e qui ancora una volta devo rifarmi al rapporto con la mia cittadina. Uno dei termini, una delle parole più usate in questi mesi è stata la parola buonsenso. Quasi che ogni strumento amministrativo tecnico nelle mani di un sindaco o di un'amministrazione potesse essere efficace nella misura in cui il buonsenso avesse poi accolto quel provvedimento, qualunque esso sia. Beh, io devo dire che la formula più importante, direi quasi la formula vincente della nostra città è stato proprio il buonsenso che i cittadini di Palagiano hanno dimostrato rispetto ad una serie di provvedimenti anche importanti. Noi abbiamo chiuso le scuole durante il primo periodo di lockdown, abbiamo chiuso i negozi dalle 14.30 e se per alcuni poteva essere un provvedimento duro, restrittivo, anche un po' così violento, devo dire che invece ha prodotto il risultato sperato. Cioè un contenimento, un controllo è in alcuni casi una importante riduzione dei contagi nel nostro paese. Ecco, dicevo, lasciamo alle spalle questo 2020, le sfide progettuali per il 2021? Le sfide progettuali parlano ancora e sempre di urbanistica, parlano ancora e sempre di lavori pubblici, di ufficio tecnico, perché noi abbiamo in mente di riconsegnare nel 2022 alla nostra città un paese che racconti una storia nuova. Ho detto qualche tempo fa al mio assessore, architetto Marco Orsini, e con questo passaggio vorrei ringraziare tutti, l'assessore Ottomaniello, l'assessore Liverano, Patrizia Rollo, l'assessore Mimmo Catucci al bilancio, vorrei ringraziare tutti perché loro hanno davvero accolto questa sfida, peraltro dimettendosi da consiglieri per diventare assessori, che oggigiorno è un dato importante, assessori che restano in carica per, ad oggi tre anni e mi auguro per cinque sino al 2022, senza mai pensare di barattare i propri ruoli rispetto invece ad interessi politici. Ecco, questi sono piccoli dati che raccontano la nuova Palagiano. Cosa vogliamo consegnare noi alla nostra comunità? Vogliamo consegnare dei luoghi, e dico, uso il plurale appositamente perché è impensabile, rivoluzionale rigenerare un intero Paese in soli cinque anni, pensando peraltro di venire fuori da un ritardo almeno ventennale, ma dei luoghi che diano fierezza ai cittadini, cioè che facciano sentire il cittadino orgoglioso di essere cittadino. Il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza, uso la parola fierezza spesso perché bisogna essere fieri di appartenere al Paese in cui si nasce, in cui si cresce, poi ci possono essere delle città meravigliose, ce ne sono tantissime, dei Paesi come per esempio Palagiano che può offrire un po' meno rispetto ad altri, ma non possiamo usare questo come un alibi per dire ok, lasciamo che la barca vada per proprio conto, no, iniziamo a ricostruire i nostri luoghi, stiamo lavorando e approfitto per tornare alla programmazione, alla rigenerazione di via San Domenico che è una via straordinaria per collocazione perché lega il viale Chiatona al nostro campo comunale, alla nostra cittadella dello sport, al palazzetto dello sport. Bene, lì ci sono degli alberi secolari che sono meravigliosi ma che evidentemente iniziano a generare problematiche anche di tenuta, abbiamo un vecchio spartitraffico che è in disuso, è ormai poco ordinato, diciamo. Ecco, il progetto, abbiamo voluto investire 300 mila Euro su quella strada perché la dobbiamo rifare, lì deve nascere la pista ciclabile che sarà il primo tratto di una pista ciclabile che attraverserà la città come da Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, lo abbiamo voluto, disegnato, scritto, approvato e siamo in fase di adozione perché vogliamo dare alla città anche un nuovo ordine proprio di gestione e di vivibilità. Ecco, questo è un po' il senso, la fierezza di essere palagianesi ma non per un orgoglio di campanile, per una storia, solo per un discorso di appartenenza, un discorso di radici. Bene, Sindaco, è il momento dei saluti però prima ovviamente gli auguri che lei si sente di formulare alla collettività palagianese, per questo 2021. Il mio augurio è che il 2021 sia l'anno sperato, l'anno in cui questo senso di appartenenza, questo nuovo guardare la città di Palagiano possa renderci sempre più parte attiva di una comunità che è in cammino, che è in fermento, che è in crescita. La nostra speranza e poi la speranza del nostro impegno politico è che potesse riaccendersi quel fermento all'interno della nostra città che non stavamo vivendo più e non stavamo sperimentando più negli anni passati. La mia speranza è che il 2021 sia l'anno della svolta davvero decisiva, perché peraltro è l'ultimo anno intero di nostra amministrazione e poi nel 2022 si procederà a nuova campagna elettorale, immagino a nuovi impegni, ma il 2021 spero sia l'anno della svolta, l'anno della gioia, l'anno della speranza per tutti noi. Peraltro ne abbiamo bisogno dopo questo 2021 orribile dal punto di vista emergenza sanitaria, mi auguro che il 2020 sia l'anno della rinascita. Bene, Sindaco, le formulo a nome, a titolo personale e dell'azienda di comunicazione che guido i più sinceri auguri, complimenti a lei e un abbraccio alla collettività palagenese ho tanti amici e si respira un'atmosfera familiare in questo comune e che dire, forza palagiano e auguri a tutti. Grazie, forza palagiano e auguri a tutti, un grazie particolare a voi tutti.